I due italiani, padre Pierluigi Macalli, rapito in Niger nel 2018 e Nicola Chiacchio, di cui si erano perse le tracce nel 2019 durante un viaggio in Africa, sono stati liberati in Mali. Erano in mano a un gruppo jihadista. La loro liberazione, hanno commentato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli esteri Luigi Di Maio, è merito del precioso lavoro del nostro comparto di intelligence, in particolare al dell'Aise, della Farnesina e dell'importante collaborazione delle autorità maliane. Quattro in tutto gli ostaggi liberati. Oltre ai due italiani ci sono anche l'ex leader dell'opposizione maliana, Sumaila Sisei, e l'operatrice umanitaria franco-svizzera, 75enne, Sofì Petronin, che era nelle mani dei jihadisti dal 2016. Petronin sarebbe stata consegnata martedì scorso ai missari del governo, assieme a Sisei. Ieri la presidenza maliana aveva confermato via Twitter la loro liberazione, sostenendo che i due erano in viaggio verso Bamako, capitale del Mali. Secondo la BBC la liberazione degli ostaggi è stata ottenuta nell'ambito di uno scambio di prigionieri che è coinvolto più di 100 jihadisti. A tenerli rapiti era un gruppo che si ritiene affiliato ad Al-Qaeda.